Questa è la terza mostra personale che la Farra, la fabbrica Arte Rimini, presenta per la città. E' una delle proposte più interessanti che il contesto artistico contemporaneo presenta, offre. Simone Pellegrini da molti anni sta svolgendo una ricerca assolutamente unica, singolare, che non teme imitazioni in qualche modo, perché affronta territori arcaici nello stesso tempo e individuali, unici, perché la sua creazione di mappe che sembrano derivare dalla riscoperta di popolazioni tribali dedicate ad una guerra post-atomica, si trovano disseminate in queste geografie cartacee che riportano simboli, processioni rituali, segni misterici di religioni a noi sconosciute. Quindi anche il lavoro artistico quasi come un lavoro di un esploratore geografo o missionario che si sia imbattuto magari nei meandri del cervello in popolazioni che appunto hanno creato un mondo parallelo al nostro e si esprimono attraverso delle forme estetiche e segniche, quasi anche forse senza avere scrittura o memoria. Tutto questo si può percepire o evocare mentre si guarda questa mostra importante che per due mesi sarà presente in arrivo. Grazie